Buonasera a tutti, molto bello vedere tante gente insieme, speriamo sia un buon auspicio per domenica. Prima di lasciare il palco a Valentina Rotondi e il suo flauto, ve lo vorrei ricordarvi che poi interverrà, faremo parlare un po' a Marco Bertolini e poi non andate via perché ci saranno i dolci per tutti e quindi insomma anche una buona occasione per festeggiare. Valentina Rotondi! Buonasera, sono Valentina Rotondi come già detto prima. Vabbè, vi intratterrò un pochino stasera con la musica del mio flauto e cominciamo subito con un tributo a zucchero. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.